Sindaco, non le dico che è una vatterlo perché lei non andrà in esilio, però questa è una caporetto per l'amministrazione comunale. Quello che è successo nelle ultime 24 ore non ha senso. Io credo che queste affermazioni da parte sua siano affermazioni che non tengono conto di quello che è successo e sta succedendo nel nostro paese. Ieri sera non si circolava in città. Ci sono state delle difficoltà e non è negabile così è stato. Noi comunque eravamo in giro con i mezzi che potevamo mettere in azione. Abbiamo un territorio vastissimo con tante frazioni, alcune sono rimaste anche isolate. Mi sembra che le precipitazioni nevose sono state importanti sia nella quantità ma soprattutto nel tipo di neve che ha messo in difficoltà un intero paese, non soltanto il comune di Teramo. Il problema, possiamo dire, dei mezzi che non circolavano ieri sera perché non c'erano. Di mezzi erano 15 mezzi che circolavano. Erano fantasma. Ma lei può dire quello che vuole. In un territorio così vasto è difficile verificare la presenza o l'assenza dei mezzi. Io non le sto a dire qui che se ci sono stati o non ci sono stati mezzi. Io le dico che comunque difficoltà ci sono state, sono innegabili. Noi eravamo presenti con i nostri mezzi su tutto il territorio. Stamattina, tuttora, abbiamo in alcune scuole delle infiltrazioni di acqua e stiamo intervenendo. Ci sono delle case evacuate, ci sono situazioni drammatiche, verrebbe da dire, al limite, no? Stanotte due tetti sono crollati, abbiamo ricoverato, una famiglia è stata ricoverata presso una struttura alberghiera dal sottoscritto nella nottata. Insomma, voglio dire, stiamo parlando di un evento calamitoso, in questo caso di portata davvero, come dire, importante. Il fatto che ci sia ancora la neve qui e ci sia ancora per tutte le vie della città, questo è un dato inconfutabile. Ma mi sembra che le strade, i tratti dove poter passare c'è, che c'è la neve qui non dà fastidio a nessuno. I passanti magari sì. Ma non credo, perché i passanti passeggiano tranquillamente, lungo percorsi aperti. Poi se voi volete che appena un fiocco di neve cada a terra e noi lo puliamo, non siamo nelle condizioni di far questo. Il piano adesso cosa prevede? Niente, il piano prevede che si continua. Noi stamattina stiamo ancora intervenendo sulle strade in frana, stiamo ancora intervenendo sugli alberi caduti, stiamo facendo un monitoraggio e stiamo intervenendo sulle scuole. Cioè, voglio dire, il territorio è vasto. Noi siamo, l'amministrazione comunale è quella che è, quindi insomma ci vuole pazienza, ci vuole tempo e ci vuole anche un po' di collaborazione. Scuole chiuse anche domani? Sì, scuole chiuse anche domani, anche perché domattina ho detto agli uffici tecnici di svolgere un'attività di monitoraggio di tutti i plessi scolastici prima di riaprire e anche perché comunque nella parte alta, diciamo, nelle zone alte della città ci sono ancora difficoltà, ci sono ancora disagi e stiamo lavorando per riaprire le strade già anche questa mattina.